salve a tutti codiciani e non codiciani voglio raccontarvi la storia del mio percorso nel trading io ho conosciuto max nel 2008 a un evento che avevo organizzato con altri trader mi è piaciuto subito per la sua schiettezza la sua franchezza il suo modo di spiegare di agire e da lì mi sono appassionato al mondo del trade però purtroppo non ho seguito max allora non avevo una società sua era insieme ad altri trader io ho iniziato un percorso individuale mio da solo ho aperto svariati conti con variati broker dove naturalmente gli analisti mi promettevano mari e molti all'inizio il profitto c'era i risultati c'erano poi però alla fine i conti li ho quasi tutti chiusi in trade out naturalmente il lavoro del broker è incassare del denaro fare profitto non tanto come dicono quasi sempre che i loro clienti sono coloro che li fanno guadagnare non è così assolutamente lo sanno benissimo tutti dopo alcuni anni sono un po demoralizzato visto l'esito negativo poi tra il 2019 e 2020 sono tornato a seguire max si era evoluta diciamo anche l'attività la rete c'era già la fibra era un'attività molto più seguita per molte più persone che operavano si era allargato diciamo il mercato del treno quando poi ho visto che max ha aperto la società codice max mi sono iscritto io sono un codiciano un criptoniano e un elitiano soprattutto un elitiano perché elitiano perché un ottimo servizio vengono fornite quasi giornalmente le operazioni nel corso della settimana le variazioni da fare se ci sono da fare delle variazioni rispetto all'apertura iniziale e purtroppo per il lavoro che io svolgo lavorando su turni io non ho molto tempo da dedicare altri di e questa è un'ottima soluzione perché comporta poco tempo da dedicare all'operatività perciò non c'è bisogno di stare davanti al pc allo smartphone all'iphone allo strumento che uno utilizza tantissime tantissime ore ma il tempo minimo per inserire l'operazione e nel caso deve essere variata variare l'operazione questo è un servizio ottimale gestito dal grande mitico selector uno dei principali trader di codice max il servizio è buono perché il risultato a fine mese è sempre positivo cosa dire io lo consiglierei vivamente a chiunque voglia intraprendere e iniziare il percorso del trading saluto a tutti buon trading a tutti